Sono 150 medici laureati assunti per l'emergenza in Toscana, sia per il 118 che nei pronto soccorso ed entreranno in servizio da lunedì 1 luglio. Ma la graduatoria è ancora più lunga, sono infatti 170 gli idonei. I giovani medici hanno incontrato nella sede della regione il presidente Enrico Rossi e l'assessore alla salute Stefania Saccardi. La Toscana di fronte al fallimento della programmazione nazionale non ha scelto di chiamare medici in servizio dall'esercito come qualcuno pensa, non ha scelto di chiamare dalla Romania, non ha scelto nemmeno di richiamare pensionati, ha scelto di mettere a lavoro i giovani laureati. Questa sarà la scelta vincente ed è la scelta di metodo che attueremo anche con un altro atto importante che andremo a prendere entro luglio. Così si salva il servizio sanitario nazionale pubblico con la passione di questi ragazzi. Noi abbiamo deciso di investire sui giovani. 150 giovani laureati entreranno da lunedì prossimo nei nostri pronto soccorsi, equamente distribuiti un po' su tutti i pronto soccorso della regione toscana, a dare una mano, a formarsi, a aiutare e sostenere il nostro sistema dell'emergenza urgenza. Un modo per garantire da una parte una presenza medica più forte nei pronto soccorso e dall'altra offrire a un gruppo di medici una formazione specifica. In un certo senso ho sempre avuto a che fare con l'emergenza, ho lavorato come volontario a rimborso spese per un'automedica, per un'associazione di volontariato in Lazio. E' bello avere però la possibilità di poter svolgere il lavoro che si ama. Io faccio il mio lavoro con tanta passione, quindi proprio vorrei avere la possibilità di lavorare anche in maniera stabile, sia in pronto soccorso che magari in 118. Dei primi 133 medici che saranno a lavoro fin dal lunedì, 52 sono stati assegnati all'ASL Centro, 43 all'ASL Nord-Ovest e 38 a quella Sud-Est. Per loro sono previsti due mesi di formazione seguiti da un tutor, poi l'assunzione per 22 mesi e l'assegnazione alle singole strutture distribuite sul territorio.